Io ho voluto per questa linea, che ormai esiste dal 2007, un design estremamente pulito, privo di decorativismi, quindi mi sono concentrato nello studio delle linee attraverso degli architesi e delle linee molto precise che disegnano tutte quante le nostre montature. Io credo in una soluzione semplice per ogni problema e tutto quello che è design e innovazione del nostro prodotto rispecchia quella che è la semplicità del nostro pensiero. Il modo migliore, che mi piace di più per definire la nostra azienda, è una start-up di 44 anni. Sembra qualcosa che fa sorridere, invece è molto concreto e molto allineato al nostro modo di essere, nel senso che siamo un'azienda che ha l'esperienza di 44 anni alle spalle, quindi uno skill fantastico a livello tecnico. Ma siamo giovani come una start-up appena nata. Con questa architettura abbiamo voluto pensare a costruire una macchina fatta di metallo, di cose tangibili che fosse capace di rappresentare il viaggio che sta facendo Blackfin. Se dovessi individuare un valore che definisce bene il nostro progetto è proprio l'amore per il nostro passato e la positività estrema verso il futuro.